La nostra mente passa spesso l'idea che l'Apostolo Tommaso è un esempio da non imitare. In realtà lui rappresenta la nostra realtà, la nostra condizione umana spesso segnata da momenti di incredulità, da momenti di sconforto, da momenti di non fede. E lui viene chiamato Didimo, che significa gemello, a significare che un po' tutti siamo Tommaso, un po' tutti assomigliamo a Tommaso. E lui mette agli Apostoli che gli annunzano che Gesù è risorto delle condizioni, se io non vedo i segni della crocifissione non credo. Cioè io ho visto un Dio fallito, un Dio morto, un Dio che è diventato un'annunità. Per me credere che lui vive non è possibile. Cosa fa Gesù? Lui ci sta a queste condizioni, mostra il suo costato, mostra le sue mani, lo invita a toccare. E questo diventa importante perché ci trasmette come il nostro Dio di Gesù Cristo ha sposato la nostra sofferenza, ha sposato la nostra croce. Io non credo a un'idea, io non credo a una filosofia, a una religione. Io credo a un Dio che ha pienamente fatto suo la mia vita umana nella sua sofferenza e con questi segni è veramente risorto. Tommaso per noi diventa un modello a tal punto che diventa fondamentale la sua frase che diventa anche la nostra frase. Mio Signore, mio Dio, buon amissimo.